Musica Benvenuti a Salute Sanità da Eva Perasso, oggi parliamo della superficie dell'occhio, questo sistema molto interessante, chi si autoregola e che ci permette di vedere non solo, adesso lo scopriremo, lo scopriamo col dottor Maurizio Rolando, benvenuto dottore, oculista, grazie. Grazie a voi per l'invito. Grazie per aver accettato il nostro invito. Dottore, sembra un mondo davvero affascinante, quando lei ha cominciato a raccontarmi che cosa accade al nostro occhio nel momento in cui viene toccato, io mi sono stupita molto. Come funziona la superficie del nostro occhio? Intanto è importante il concetto, ossia c'è un sistema, che si chiama sistema della superficie dell'occhio, che è composto dalle nostre palpebre, dalla congiuntiva, dalla cornea e dalle lacrime, che ha il compito di mantenere un equilibrio che ci consenta di vedere bene e di impedire a corpi estranei o germi o altre cose di penetrare all'interno dell'occhio. Il sistema è organizzato in questo senso. Nulla deve entrare nell'occhio, la cornea deve rimanere trasparente e consentirci di vedere bene. Ora, la cornea vede bene perché sopra c'è un film di lacrime molto organizzato che la rende liscia perché la cornea è irregolare. Questo sistema dobbiamo immaginarlo come un uomo che è su un filo in equilibrio e, in continuazione, deve mantenere il proprio equilibrio. L'equilibrio viene mantenuto tramite una serie di fattori che dipendono dai nervi, dalla produzione delle lacrime, dal sistema ormonale, dal sistema immunitario e dai vasi sanguigni. quindi questi differenti sistemi cercano di mantenere, producendo sostanze o addirittura allontanando altre sostanze, di mantenere le condizioni della superficie oculare. E' un sistema estremamente attivo perché immaginate che le cellule della superficie oculare sono sempre in movimento, in continuazione dalla periferia verso il centro si muovono. Perché? Perché devono proteggere in continuazione, quindi se c'è un invecchiamento cellulare o un piccolo deficit, loro si devono muovere. Se si devono muovere consumano molto. Si muovono in risposta a degli stimoli nervosi. Abbiamo 7000, e dico 7000, terminazioni nervose per millimetro quadrato all'interno della nostra cornea. Quindi la cornea è la parte dell'organismo che in assoluto è la più sensibile. Quando aumenta il vento, noi cominciamo ad ammiccare un po' di più per difenderci, ma anche produciamo più lacrime in modo da difendere la cornea da questo stimolo. La lacrimazione è proprio un nostro strumento di difesa. È uno strumento straordinario che viene prodotto sempre a seguito di uno stimolo a un recettore specifico che c'è sulla cornea e sulla congiuntiva, che è il cosiddetto termorecettore. L'evaporazione dell'acqua abbassa la temperatura a livello della cornea, il termorecettore è attivato, manda segnale al cervello che produce, va alla ghiandola lacrimale che produce lacrime. Quando per esempio abbiamo un occhio rosso, lei mi diceva in realtà è un ottimo segnale, vuol dire che sta lavorando. Esattamente, l'occhio rosso è un'espressione della reattività del sistema. Immaginate che vi arrivi un bruscolo in un occhio, nella cornea, e che cosa succede? Cominciate a ammiccare e a lacrimare perché dovete cercate fisicamente di allontanare il corpo estraneo. Ma quello che succede è che in pochi secondi il vostro occhio diventa rosso. Diventa rosso perché? Perché i nervi della cornea vengono stimolati, se sono stimolati producono delle sostanze, la cosiddetta infiammazione neurogenica, che è una scoperta relativamente recente, soprattutto in campo oftalmologico. Questa infiammazione neurogenica produce una vasodilatazione a livello della congiuntiva. La vasodilatazione vuol dire aumento di permeabilità dei capillari e quindi le sostanze che noi chiamiamo immunocompetenti, che sono le sostanze di difesa del nostro organismo, entrano nelle lacrime, nel fin lacrimale, e difendono l'occhio da questo possibile agente tossico, lesivo o infettivo. Quindi vedete che il sistema molto rapidamente è in grado. Chiaramente, se l'occhio rimane rosso, vuol dire che il sistema non ce la sta facendo a recuperare completamente, che gli stimoli sono troppo forti e quindi l'equilibrio non viene fatto. Allora, in quel caso, ahimè, dobbiamo preoccuparci e trovare la ragione perché quest'occhio rimane rosso e probabilmente, diciamo, i germi o quello che è avvenuto è troppo forte per le capacità di difesa del nostro sistema. Chiarissimo. Ecco, dottore, si parla spesso di malattie della cornea. Se ne parla tanto. Lei mi diceva forse se ne parla troppo. Bisognerebbe pensare a quest'occhio in modo un pochino più integrato. Sì, perché le malattie della cornea, a parte le distrofie corneali congenite, sono malattie in realtà del sistema della superficie dell'occhio. Perché un ulcere corneale viene se il sistema non è in grado di difendersi. Se questo meccanismo che abbiamo descritto prima, che è un sistema, è un meccanismo, in realtà questa è una piccolissima parte delle capacità che hanno la nostra superficie dell'occhio, comunque è un meccanismo di cui stiamo scoprendo tutte le reali capacità veramente di settimana in settimana. Ebbene, se questo meccanismo non è capace, rende la cornea danneggiabile. La cornea ha un epitelio, che è una specie di foglio di cellofan che la ricopre al davanti, che è impermeabile, quasi impermeabile. Questa impermeabilità consente di avere una differenza di potenziale fra la parte posteriore della cornea e la parte anteriore della cornea. Quindi c'è come avere una carica elettrica. La maggior parte dei germi che sono su questa terra hanno anche loro una carica elettrica. E fortunatamente è la carica elettrica che ha la cornea. La cornea è negativa sulla superficie e i germi sono negativi sulla loro superficie. Per cui, se quella cornea rimane impermeabile, c'è questa differenza di potenziale e quindi i germi arrivano e vengono mandati via per repulsione elettrica. Se la cornea è in sofferenza, perché le lacrime non funzionano, perché c'è stata una piccola abrasione, un edema indotto dalle lenti a contatto, ad esempio una lente a contatto usata un po' troppo, produce uno stato di ipossia a livello delle cellule dell'epitelio che provocano un edema e quindi la perdita di questa impermeabilità. Ecco che i germi non vengono più mandati via, ma trovano uno spazio in cui entrare sull'occhio. Quindi la infezione corneale è spessissimo causata da qualcos'altro, da un'interruzione delle capacità di omeostasi, di capacità di autocontrollo del sistema dello superficie corneale. E' per questo che una blefarite, un'infiammazione delle palpe che dura a lungo, non può essere sottovalutata, perché può essere il fattore per il quale noi ci becchiamo, poi, l'infezione corneale. L'infezione corneale vuol dire problemi alla vista, l'irritazione delle palpe vuol dire scocciatura, però ecco che la scocciatura trascurata induce un rischio, può trasformarsi in un'altra tipologia di patologia. Quindi il sistema va mantenuto efficiente. Chiarissimo, dottore. Tra le varie malattie che coinvolgono la lacrimazione dell'occhio, c'è quella molto frequente, molto diffusa, la malattia dell'occhio secco, così chiamata, ovvero la secchezza oculare, diciamo così. La secchezza oculare. Oggi si tende a chiamare la malattia dell'occhio secco perché abbiamo visto che è una vera malattia. È una malattia molto complessa, tra l'altro, e, le devo dire, anche abbastanza difficile da curare nelle sue forme più evolute. Anzi, le devo dire, non siamo capaci a curarla, siamo forse malamente capaci a gestirla. Speriamo sempre meglio, ma... Allora, le nostre lacrime devono avere un volume sufficiente, quindi la ghiandola lacrimale deve produrre queste lacrime, e devono stare al davanti della cornea della superficie volare in un'architettura ben stabilita, che viene distrutta e ricostruita ad ogni ammiccamento. Quindi ogni dieci secondi noi ricostruiamo un'architettura in tre frasi separate che mantiene le lacrime funzionanti. Se io ho poco volume, questa architettura non viene ricostruita. Se io ho un'alterazione nella qualità della lacrima, l'architettura ha difficoltà a rimanere stabile. Quello che abbiamo scoperto è che, veramente, la cosa molto importante, oltre quantità di volume, diciamo, tra virgolette, di acqua, che non è acqua, ma è lacrima, è la parte lipidica. Il fin lipidica, ogni ammiccamento, noi velocissimamente portiamo uno strato lipidico sulla superficie dell'occhio. Questa è la ragione per cui gli occhi brillano. Una volta mi avevano intervistato e mi hanno detto ma perché gli occhi degli innamorati sono così brillanti? Perché hanno delle lacrime, per l'emozione, producono più lacrime, e hanno delle lacrime molto efficienti. Allora, la malattia dell'occhio secco non è soltanto avere poche lacrime, ma avere sulla superficie dell'occhio delle lacrime che non funzionano. E, purtroppo, questa malattia sta aumentando in frequenza in tutto il mondo in modo, direi, esponenziale. Si calcola che circa il 15% della, diciamo, quella che noi chiamiamo civiltà evoluta, ma non lo so fino a quando, ma nel mondo industriale i pazienti sopra i 40 anni, il 15% delle persone sopra i 40 anni soffre di qualche forma di malattia dell'occhio secco. Il problema è che questa malattia tende ad evolvere nel tempo. Può partire con un semplice fastidio se l'origine di questo fastidio non è allontanata, tipo il numero di ore che stiamo al computer, la esposizione in ambienti tossici che fanno evaporare velocemente le lacrime, l'uso smodato di lenta a contatto, eccetera. Quindi, all'inizio, diciamo, mi bruciano un po' gli occhi e riesco a, diciamo, recuperare mettendo una semplice goccetta, che poi vi dico che deve essere messa giusta, ma se io non faccio questo in modo corretto, lentamente la malattia tende alla cronicizzazione e può diventare una malattia cronica con un coinvolgimento del sistema immunitario. Quindi è importante riconoscere che c'è un problema, che inizialmente è molto spesso una cosa da molto poco che può essere recuperata, ma se ce ne dimentichiamo o trascuriamo può diventare qualcosa di più serio. Abbiamo purtroppo ancora poco tempo a disposizione, ma le chiedo in chiusura di raccontarci in che modo aiutare questa lacrimazione. Allora, prima cosa, bere. Seconda cosa, usare, se abbiamo bisogno, di lacrime artificiali, le lacrime artificiali vanno usate prima che venga il fastidio. Se voi sapete che vi bruciano gli occhi alle 11 del mattino, per piacere mettete le lacrime alle 10 e mezza, perché le lacrime non servono per togliere il fastidio, ma servono perché il fastidio non venga. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che nessuno vuole fare perché è noiosa è fare degli impacchi di acqua calda. Il caldo apre i pori e scioglie i grassi e quindi migliora la qualità del film lipidico che abbiamo sulla superficie dell'occhio. Bene, io la ringrazio anche per questi consigli che sembrano semplici, in realtà poi poche sono le persone che si ricordano di fare queste cose. Abbiamo parlato della superficie dell'occhio, ringrazio il dottor Maurizio Rolando per essere stato con noi e do appuntamento ai nostri spettatori alla prossima puntata. Grazie. Grazie a voi.